Ben trovati, siamo in compagnia di Lorenzo Terzi, fondatore di L.T. Wine & Food Advisory. Per le nostre interviste d'eccellenza cominciamo veramente con un grande manager che si occupa del settore vitivinicolo, un settore quello del vino che di comune accordo con quello che sta succedendo in Italia sta cambiando un pochino il profilo, è un cambiamento culturale ma è anche un cambiamento economico. Allora qual è l'identikit dell'azienda tipo italiana oggi? Dunque le imprese italiane del vino si possono caratterizzare di due dimensioni, la dimensione storica amatrice familiare, quindi le storiche aziende italiane del vino fondate anche prima del Novecento e poi tutti questi nuovi modelli di aziende emergenti che sono sorte nel paese negli ultimi trent'anni. Chi è oggi Lorenzo Terzi e di che cosa si occupa nella fattispecie? Noi in qualche modo L.T. Wine & Food Advisory supporta nei processi di crescita, di integrazione e di sviluppo le imprese del mondo del vino italiano favorendo loro il ragionamento del buonsenso, l'aggregazione, l'eventuale partnership fra imprese per competere nei mercati più lontani, quelli internazionali, quelli diversi, quelli di in qualche modo di poter dare sviluppo a ogni produttore che ha un'identità di prodotto e spesso non ce l'ha sul piano gestionale, commerciale, relazionale e di esperienze. Per cui favoriamo i processi di crescita a livello internazionale, come dicevo, e nello stesso tempo anche andiamo a ricercare mezzi finanziari diversi da quelli della finanza tradizionale e quindi supportarli anche sul piano finanziario. Lei mi ha parlato di piano internazionale, quindi mi viene gioco facile pensare ad un obiettivo molto vicino in realtà oggi e cioè l'Expo 2015 di Milano. Allora, avremo un padiglione Italia che sarà sicuramente molto rappresentativo. Ecco, rispetto al mondo del vino, avremo a livello nazionale una grande visibilità internazionale attraverso tutti coloro che vorranno visitare l'Expo. Qual è il suo consiglio per le aziende vitivinicole italiane che vogliono una visibilità sulla piattaforma dell'Expo ma soprattutto non vogliono perdere questa occasione per riportare poi i buyer o la clientela in Italia anche dopo l'Expo? Beh, questa vetrina internazionale che si pone davanti al Paese nel 2015 vede sicuramente l'opportunità di visibilità e di attenzione verso i nostri prima territori direi delle enologie e distretti enologici italiani e quindi inevitabilmente si accenderanno i fari sui produttori, sui migliori produttori. Per cui è una vetrina di opportunità, una vetrina da accogliere, come si dice, non solo in fase di back office ma anche nel front office. Quindi prepararsi ad accogliere nei territori. Immagino in qualche modo dei fruitori internazionali appassionati di cibi e di qualità dei nostri cibi e dei vini. Immagino nei territori, immagino quando arriveranno in Toscana, li accoglieremo a Firenze come? Li porteremo a Siena oppure a Montalcino oppure a San Geminiano. Quindi ancora una volta dovremo essere capaci di vendere questo flacone di Italia che si racchiude tra il bello, il buono, la cultura dei territori e la socialità degli italiani. Ecco, questo è sicuramente un ottimo consiglio. A livello però di azienda Italia, io volevo sapere da lei che è un esperto. Succede per l'imprenditore del mondo del vino quello che è successo per l'attuale classe politica dirigente, cioè esiste un ricambio e un cambio generazionale a livello di famiglie italiane che si occupano di vino? Sì, nei processi di crescita delle famiglie italiane, molte di queste, quelle più note diciamo, non voglio in questa sede fare dei nomi, dei cognomi o delle imprese, è stato attivato già per molte di queste famiglie un processo di integrazione fra la famiglia e i manager, oppure comunque di risorse esterne a sostegno del modello imprenditoriale disegnato dall'impronta familiare italiana. Non dimentichiamo che l'Italia ha avuto dei grandi, dei grandissimi, immaginiamo, non solo Adriano Olivetti, piuttosto che altri grandi imprenditori italiani, veramente una forte identità nel caratterizzare dell'idea. Oggi l'idea va supportata attraverso un processo appunto ancora di organizzativo e soprattutto di rafforzamento delle risorse umane. Cogliere dall'esterno questa opportunità lo è stato fatto da, immagino, veramente molte famiglie, immagino quelle toscane che sono oggi alla guida, trovano l'imprenditore, di fianco persone che non solo competenti ma che amano anche il mondo del vino. Una rivista dedicata all'eccellenza, quindi parlando di vino e vino italiano, non possiamo non calibrare questo aggettivo anche per questo segmento importantissimo del Made in Italy. Tra l'altro Lorenzo Terzi è anche stato premiato con un premio dedicato appunto all'eccellenza dal Gambero, proprio nel 2013, quindi che cosa possiamo dire in riferimento all'eccellenza del comparto vidi di Nicolo Italiano? Beh quindi non solo siamo il paese che produce di più vino nel mondo e quando dico il paese d'Italia che produce più vino nel mondo dico veramente un grande primato quantitativo, lo siamo anche dal punto di vista qualitativo perché abbiamo diverse cantine che portano a casa riconoscimento attraverso i loro sforzi, i loro investimenti e i loro vini, la qualità percepita, la qualità assoluta di questi vini e oggi come oggi possiamo competere non solo sui vini rossi dove siamo ambasciatori anche di grandi eccellenze ma soprattutto anche di bianchi emergenti in nuovi territori italiani che daranno grande soddisfazione all'enologia del paese. Grazie, grazie a Lorenzo Terzi di LT Food & Wine Advisory e grazie anche da parte mia Camilla Nata.